Jeff Bezos, il patrón di Amazon, andrà a donare buona parte della sua ricchezza, della sua eredità, circa 124 miliardi di dollari, alla lotta al cambiamento del clima per sostenere tutti quelli che si battono per far sì che il clima venga a regolarsi e che non ci siano più problemi climatici nel nostro mondo, nel nostro pianeta. E' lo stesso Jeff Bezos attraverso la CNN ad informare tutti quanti del fatto che vuole prendere questa intenzione, quella di andare per l'appunto a donare parte della sua cospicua ricchezza per il nostro pianeta, per il patrimonio che viviamo in questo mondo, il pianeta Terra. L'ho detto lo stesso in un'intervista alla CNN, in un'occasione del prebio Bezos Courage, un premio di grande bellezza e di grande fascino. Dunque lui stesso andrà a fare una donazione molto cospicua per il bene del nostro mondo, abbassare i livelli climatici, abbassare l'inquinamento per quel che è possibile, apprezzare di più la Terra, il nostro pianeta, terzo in ordine di distanza dal Sole. Bene, vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, ciao da Ariandro, narrato italiano.